Si ferma dopo sette vittorie la corsa del Lavezzano che impatta per 1 a 1 ad Alba Adriatica contro la formazione di De Amicis che ha costruito una ragnatela che ha praticamente chiuso tutti gli spazi alla formazione di Torti. Prima azione degna di nota al terzo minuto con Nicramella che lavora un bel pallone sulla destra e mette al centro Piccone calcia con il sinistro sul fondo. La risposta del Lavezzano è affidata al solito Dos Santos il suo colpo di testa fuori di un soffio. Più pericolosi però sono i padroni di casa al minuto 18 angolo battuto da Piccone. Giovannone si ritrova il pallone tre piedi preso in controtempo prova a calciare ma Venditti sventa la minaccia. Nuovamente l'Alba al quarantesimo il solito Piccone mette al centro velo di Torre. Icramella colto di sorpresa manca il tap in vincente. L'ultima azione del primo tempo è di Bisegna che dal limite fa partire un fendente che il portiere di casa Barduagni respinge. Ecco le immagini montate da Mario Giacchetta passiamo alla ripresa dopo quattro minuti di gioco. L'Alba prova a perforare angolo di Passamonti per la testa di Torre di poco sopra la traversa. Si rivede Lavezzano blanco subentrato a pendenza prova a impegnare il portiere di casa. Si sblocca la gara al minuto 24. Icramella azione sulla destra entra in area di rigore e viene steso da Venditti. Per il direttore di gara non ci sono dubbi calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Icramella. Palla da una parte portiere dall'altra e 1 a 0. Vemente la reazione dell'Avezzano passano 120 secondi e arriva il pari con il solito Dos Santos il più lesto di tutti a raccogliere un traversone di Besana. Le ultime azioni sono di marca bianco-verde con Blanco al minuto 29 e 31. Entrambe le conclusioni si spengono sul fondo. Termina così la gara tra Alba Adriatica e Avezzano 1 a 1. Si ferma la corsa dell'Avezzano qui ad Alba, un pareggio, un 1 a 1. Partita difficile, si aspettava? Sì, sapevamo che era difficile perché incontravamo una squadra che per tradizione è sempre stata ostica, in particolar modo su questo campo dove non si può giocare. E quindi noi ci siamo adattati come loro, giustamente, scalcando questo centrocampo. È ovvio che prendere gollo poi a un quarto d'ora alla fine su un calcio di giocore secondo me è abbastanza generoso. La squadra ha fatto una grandissima reazione, ha pareggiato subito e poi alla fine poteva anche vincere la partita. Però penso che il risultato di parità è giusto. Io sono soddisfatto perché, ripeto, in questo campo, su questo campo non era semplice. Alla luce degli altri risultati c'è il rammarico perché forse oggi si poteva dare il K.O. definitivo al campionato? Beh, io adesso non li so i risultati perché però nel campionato mancano ancora 15 partite, talmente 45 punti sono talmente tanti che, certo, il rammarico però se perdavamo. Quindi io penso che il risultato positivo sembra una cosa importante perché lavori tranquillamente in settimana. Adesso ci sono queste festività natalizie, ce le godiamo tutte perché è giusto, perché hanno fatto qualcosa di straordinario i ragazzi e poi alla ripresa ci prepareremo bene appunto per la ripresa del campionato. Grazie mille, mister, buone feste. Grazie, auguri a tutti. Mister Marini, un 1-1 contro la capolista. Avete fermato l'Avezzano dopo sette vittorie. Più contento per il punto o più rammaricato perché magari si potevano portare a casa i tre punti? Ma sì, per il computo di azioni che abbiamo avuto durante la partita, chiaramente un po' l'amaro in bocca c'è perché se sfruttevamo le due occasioni avute nel primo tempo, la partita prendeva un altro piego, un altro risultato. Però per noi oggi era importante dare un segnale dopo la sconfitta di domenica sportore, quindi i ragazzi hanno avuto subito una reazione importante contro la prima della classe. è una partita che noi abbiamo affrontato con il massimo della determinazione, con il massimo dell'impegno e penso che alla fine il risultato di pareggio sia un risultato giusto perché chiaramente il loro valore non si discute e quindi per noi è importante, ripeto, era importante dopo la sconfitta di domenica dare un segnale e subito una scossa di ripartenza per la squadra. Benissimo, grazie mille mister e buone feste! A voi, a voi, auguri, salve!